Non si deve morire di lavoro, ma i numeri e i dati ci smettiscono purtroppo, Presidente. Purtroppo sì, ma il problema grosso è che adesso ci sono tanti giovani che muoiono e questa cosa non va bene, va tutelata la sicurezza nelle fabbriche. Dobbiamo dare ai nostri giovani un futuro di lavoro e possiamo darlo solo con la sicurezza sul lavoro. Dalle parole ai fatti, in che modo? Innanzitutto le nostre istituzioni, la nostra politica deve intervenire, perché il primo passo dipende da loro. Mi dispiace dover dire queste cose, ma è la realtà. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di andare avanti in tutti i modi, ci intrufoliamo dappertutto, purché riusciamo a fare qualche cosa.